non potevamo lasciarvi senza i nostri auguri per un altro anno trascorso insieme a noi insieme a voi abbiamo fatto un percorso insieme è stato molto bello in questo anno ma in questi anni accompagnarci conoscerci e riconoscerci e ve lo facciamo questo augurio con la nostra ultima fatica così stiamo insieme a voi in un altro modo il testo nasce da un percorso percorso che abbiamo fatto prima noi il nostro testo i racconti di passione un percorso possibile e attraverso il quale accompagniamo i nostri lettori e spero che siano tanti è stato molto bello poter fare insieme questo lavoro io e il professor bianca lani ve lo consigliamo per trovare altro tempo per abitare la casa del pensiero il libro è ordinabile su amazon e quindi è abbastanza facile e accessibile non mi resta dunque che aspettarvi nell'anno nuovo con le nostre rubriche e tante novità e quindi auguri grazie a tutti a